Massiccia partecipazione alla manifestazione nazionale di sabato scorso al Circo Massimo a Roma indetta dai sindacati dei pensionati di CGL e Cislewin. Al centro dell'attenzione la rivalutazione delle pensioni, l'allargamento della quattordicesima, la riduzione delle tasse all'insegna di un fisco più equo, la sanità e una legge sulla non autosufficienza. Sensibile a queste problematiche è anche l'Abruzzo che non ha fatto mancare la propria adesione. Sono da Pescara, Trepulman e altri attrettanti dalle altre province. Siamo qui per rivendicare una politica diversa da quella che si sta mettendo in atto rispetto alle condizioni economiche e sociali dei pensionati. I sindacati parlano di una manovra insufficiente che non dà risposte ai pensionati. Noi vogliamo che si facciano delle riforme vere in questo paese e quanto ha dichiarato a Onda Tg il segretario generale della CGL Maurizio Landini che poi ha giunto. La sismetta di vivere sulle tasse che pagano i lavoratori dipendenti o sul contributo che danno i pensionati di sostegno reale al nostro paese che molto spesso significa sostituire la mancanza di servizi sociali e diciamo al governo che c'è bisogno di aprire un processo di riforme di fondo che parta sia dalla riforma della legge Fornero sia da una rivalutazione vera delle pensioni sia da un piano di investimenti che crea il lavoro perché è chiaro a tutti che per dare risposta ai pensionati e per un nuovo stato sociale c'è bisogno di creare lavoro per chi non ce l'ha e c'è bisogno di combattere l'evasione fiscale. Per i sindacati si tratta di una manovra beffa vista la mini rivalutazione da nemmeno 50 centesimi al mese inserita nella legge di bilancio. In tal senso chiedono risposte al governo. Il segretario generale della UIL, Carmelo Barbagallo. Gliel'abbiamo già detto, forse era meglio manco farlo perché mezzo bicchiere di vino in un albergo costa 6 euro si bevono in un colpo solo tutto l'aumento dell'anno prossimo. Gli anziani sono quelli che dopo la guerra hanno ricostruito e reso grande l'Italia come seconda potenza europea industriale così sembra la nostra emittente la segretaria generale della CISL, Anna Maria Furlan che ha inoltre sortato ad un maggior rispetto nei confronti degli anziani. Chiedono la rivalutazione delle loro pensioni bloccata da tanti tanti anni sono stati impoveriti in questi anni gli anziani e le anziane e chiedono una legge a sostegno delle famiglie con la presenza di non autosufficienza purtroppo una situazione che colpisce anche tanti giovani una grande alleanza tra anziani e giovani a favore del lavoro.